Generated car, the jack of diamonds Cioè, per 9 millesimi di secondo, raga, se non andava a 19 Oh, è stato così, non ha guardato, ho mischiato Eh, no, raga, me ne vado, eh La trovo, me ne vado, me lo sto dicendo Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui con un ospite molto speciale Allora, lui si chiama Olly Mealing, sono qua a Londra, a casa sua Ho passato un sacco di tempo con lui negli scorsi due giorni Mi ha fatto vedere dei miracoli di carte assurdi Roba che non avevo mai visto, quindi ho detto Dobbiamo per forza fare un video in cui mi fai una magia che io non capisco Sono ossessionato a questa idea di essere stupito E quindi voglio essere stupito tantissimo Perciò, Olly, è il tuo turno Ciao, quindi abbiamo inizialmente inizialmente? Sì, sì, sì Ok, siamo inizialmente inizialmente Non so se posso parlare così loud e così energeticamente Sì, potrei provare Allora, ho provato a provare con un effetto oggi Ok And it involves your phone And specifically the stopwatch on Alex's phone So would you go to the chronometer I'm clearly not Italian but I'm doing my best So go to the stopwatch Ok And I just need to familiarise myself with how this works So if you could place the stopwatch down there Ok So start, stop, reset Perfecto So Alex, in a moment You're going to reach out And you'll press start And as those seconds begin ticking by I'm going to ask you questions And they're questions that will cause you to generate a playing card All right, they're very simple questions There's no right or wrong You just say the first thing that comes to mind Makes sense? Ok, yeah, makes sense Ok, cool So, in your own time, whenever you're ready Reach out and press start Go So Alex, in a deck of cards You've got two categories Pictures and Numbers Name one out loud Any one out loud Whichever one you name will eliminate You said Numbers Eliminating the Numbers Leaves pictures Jacks, Queens and Kings Name one of those Jacks Jacks, and give it a suit What suit would you like to give it? Diamonds Diamonds, ok So I would like to reach out and press stop Right there So, and you can just show the audience the time that you stopped on 18 seconds Exactly, 18 seconds So, in 18 seconds Alex generated the Was it Jack of Harves? Jack of Diamonds Diamonds, Jack of Diamonds And remember I gave you completely free choices We haven't set anything up beforehand Yeah All your answers were free and fair It was the first thing that came to mind Yeah And you did it in 18 seconds Yeah Now Alex, somewhere inside this deck Yeah Which I've been nowhere near Right Will be a Jack of Diamonds Ok What are the chances Nooo So easy Penny's dropped Right The chances that the 18th card down in that deck Don't matter Isn't just any card But specifically your generated card The Jack of Diamonds So should we find out? I want you to turn the pack face up And we'll begin dealing to the 18th card So off you go One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen The 18th card It's the Jack of Diamonds everybody Thank you very much Thank you very much indeed Jack Assurdo And Alex All the credit is on you really You made all those decisions You started and stopped the stopwatch by yourself So well done Incredible And thank you for letting me share that with you and all of your lovely viewers Madonna There it is C'è per nove millesimi di secondo ragazzi Se no andava 19 E sbagliava perché sbagliava And these are your cards Ah certo sono le mie carte ovviamente You gave me these These been shuffled You can see they're all mixed up I know Regular everything Which is What's led to Real magic right here today Oh no idea Non ne ho la mia idea Does it hurt? A bit A little bit That's okay The pain will eventually pass Me ne ha fatti di robe eh ma questa Assurdo Per noi millesimi di secondo Another one Another one Non stiamo registrando un video per il canale Non mi ha appena ucciso con un miracolo Visto che quello di prima chiaramente l'ho capito Come avete visto dalla mia reazione Cioè è abbastanza elementare Insomma Non è che lo sto scherzando ovviamente Non ho capito niente Gli ho chiesto di farmene uno un po' più difficili Perché qua c'è Sei mica qua a scherzare insomma Olli c'è devi impegnarti Ready? Let's go All right So take the deck And give those a shuffle please Cioè mi fa mischiare lui si è Mi fa mischiare And I wanna try something incredibly fair So what I'd like to do Alex Is I won't look I'm gonna look away But in a moment I'm gonna get you to just cut into the pack You'll have a look at the card you cut to Ok Obviously let everybody watching see it as well Um And then I want you to just put the packet back Square it in All right So I don't want a kind of thing But yeah you're gonna cut yourself So you're just gonna cut the deck All right Don't look I'm not looking Okay Try it too Okay put it back on top Square everything up Perfect Yes And then if you don't want Just give them a shuffle as well All right All right Deadly serious Yeah mix the notes up All right Happy? So Very fair You shuffle the cards You cut anywhere Me ne vado eh Shuffled it in I will now do my best to locate this card So please think of it Yeah Thank you And uh I think this was Um My writer is saying this is quite a high card Right? It's quite high Yeah And uh I'm gonna also Say this was a A black card Is that correct? Yes Yes Um I could be one off I could be one off Uh It's a club Yes? Yes Uh All right I haven't moved the position of my Yeah 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 I'm committed to this In fact I'll isolate it I'll isolate it So for the first time out loud Me ne vado me ne vado Step down step down Nine of clubs Oh shh Nine of clubs I don't know Have a look Me ne vado me ne vado Oh 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 You shuffled You cut You shuffled again Sorry He's literally gone Come che cavolo Raga È assurdo È assurdo È assurdo Ci sto provando a pensare ma Cioè è allucinante Ho mischiato prima Ho alzato a caso Ho guardato una carta L'ho rimessa lì Ho rimischiato Boh Dai Show me another one And I'm back in the game All right So Alex Just call out Stop anytime Stop anytime Remember this one All right I won't look but everyone else can see it as well Okay And would you shuffle it in for me So Alex and everybody watching is You're all thinking of a card All right I have no idea what this card is Non l'ha guardata Non l'ha guardata I certainly have no idea where the card is All right So I can miss care So whenever you're Good job All right At least you know they're thoroughly shuffled And what I'd like you to do is just turn the deck face up All right You're gonna place the pack down And I want you to think of your card All right Think of your card And now just cut the pack Anywhere you like And I believe That that was very close wasn't it? Yeah That was very close Cut again All right You see how you've now gone to an eight All right Yeah The first card that you found was an ace Which is one more than an eight And if we go then a seven So if we go one more than a seven It gets to the eight And the first one was a diamond Was it the eight of diamonds? Yeah it was The eight of diamonds, there we go Thank you very much Direi che per questo video abbastanza Sono come vedete preso male Un po' Perché non ho capito niente Spero che me li spieghi Can you explain me how you did those tricks? No Non me lo dici neanche Perfetto Quindi sono ancora più preso male Fantastico Se volete vedere altre cose molto fighe Insieme a lui Seguitemi sul mio profilo instagram E seguite anche lui sul suo profilo instagram Ve lo lascio qua sotto Entrambi i nostri profili Perché soprattutto sul mio Vedete un po' di altre clip Abbiamo filmato col telefono Quindi se volete Guardatemelo un po' lì Perché è veramente bravissimo E seguite anche lui mi raccomando Perché è un mostro Ogni giorno pubblica una cosa nuova Con le carte E sono fantastiche Io mi ci chiudo ogni giorno Le guardo 30 volte Non capisco niente Faccio un attimo un salto nel futuro Come vedete in questo video Avevo ancora i capelli scuri E la mano che funzionava bene Questo perché l'ho filmato Prima dell'intervento Solo che per vari problemi Sono riuscito a caricarlo solo oggi Olly è stato davvero gentilissimo E ha fatto con me una cosa Che solitamente non fa Ovvero condividere il suo repertorio Gli studi di una vita Se vi piace quello che fa E vorreste imparare qualcosa Dal suo materiale In descrizione vi lascio il link Per la sua membership mensile Costa 10 sterline al mese Ovvero circa 13 euro E una volta abbonati Avrete accesso a tantissime Delle sue invenzioni Oltre ad altre accortezze Tecniche e psicologiche Non mi ha chiesto lui di dirvelo Ma voglio farvi presente questa cosa Perché credo che il materiale All'interno sia veramente valido E potrebbe essere una grande opportunità Per alcuni di voi Dico alcuni di voi Perché è purtroppo Tutto quello che spiega in inglese Quindi potrebbe esserci Questa barriera linguistica Ora restituisco la linea All'ale del passato Per chiudere il video Comunque per il video di oggi è tutto Mi raccomando Se non lo avete ancora fatto Distruggete col tasto di iscrizione E attivate la campanella Per rimanere sempre aggiornati Sull'uscita dei nuovi video Troppate un gigantesco like E commentate qui sotto Scrivendomi Se vorreste vedere altri video Insieme a lui Perché io vi giuro Prendo l'aereo Vengo qua a Londra Ne registro altri Perché è una roba allucinante Ricordatevi sempre di sognare in grande Ma di gire sempre più in grande As I always say Dream big Do bigger Ci vediamo settimana prossima Nei prossimi giorni con un nuovo video Vi dirò come riprenderà la programmazione Ciao Ciao